Stamattina siamo venuti qui con spontaneamente un gruppo di lavoratori, diciamo più o meno una 50-60 di lavoratori della Reofan per cercare di avere delle risposte da una reindustrializzazione che noi non vediamo. Quindi è nata spontanea questa cosa di richiedere, prima dell'incontro del 2018, di richiedere ai sindacati nazionali una risposta o comunque qualche informazione per quanto riguarda una reindustrializzazione che al momento a noi è completamente assente, non presente. Dato che noi lavoratori adesso ci stiamo ponendo delle grosse domande con il fatto che i tempi iniziano a scadere, mancano soltanto 3 mesi al licenziamento e se andiamo a vedere manca un mese a una riapertura di una procedura di licenziamento. Quindi vorremmo capire a un mese da questa cosa, a un anno da quando è iniziata tutta la questione della chiusura di questa azienda, vorremmo riuscire a capire perché qui non c'è nessuna risposta di reindustrializzazione, perché non abbiamo nessuna notizia di reindustrializzazione e queste risposte ce le possono dare soltanto i nazionali. I nazionali che possono magari fare qualche domanda, i nazionali sindacali che possono magari anche domandare alla politica il perché non ci sia un interessamento forte per una reindustrializzazione di questi soldi.